buongiorno a tutti il mio nome è luca esposito sono maestro fide e recentemente mi sono dedicato oltre che al gioco di scacchi a tavolino anche al gioco per corrispondenza e all'insegnamento degli scacchi nelle scuole recentemente poi sono stato contattato da mattoscacco per gestare questo videocorso che riguarda l'attacco a re e devo dire che mi sono molto divertito perché ho avuto l'opportunità la possibilità di rivedere alcuni classici alcune partite classiche che sono davvero belle da vedere dove si sviluppano una serie di meccanismi di combinazioni tipiche che sono davvero a volte molto ingegnose e il contenuto di questo corso riguarda appunto l'attacco al re avversario e il corso è suddiviso in 12 lezioni ogni lezione consiste nell'analisi di un paio di partite e poi al termine un paio di esercizi classici oppure matto esempi di matto classici il primo tema che studiamo riguarda l'attacco del re al centro e a questo tema sono dedicate tre lezioni quindi sei partite analizzate poi c'è un secondo tema che riguarda come smantellare l'arrocco dell'avversario e a questo tema sono dedicate altre tre lezioni quindi altre sei partite e in questo capitolo viene analizzato anche il ben noto sacrificio greco cioè il sacrificio della sfide in h7 poi nel capitolo successivo invece si parla della eliminazione no scusate della di quello che è un segnale della possibilità di attaccare e cioè il fatto che gli attaccanti sono in maggioranza rispetto ai difensori poi nel capitolo successivo il quarto si parla invece della eliminazione dei difensori cioè come sacrificare eventualmente materiale per poter attaccare per poi recuperare questo materiale oppure dare scacco matto e poi nel capitolo finale invece si parla del controattacco quindi in situazioni in cui stiamo subendo un attacco come difenderci preparando un controattacco va bene e voglio farvi vedere alcuni sketch di quelle che saranno le partite che sono commentate nel videocorso nonché oltre alle partite commentate anche alcuni matti famosi e hanno preso il nome dai giocatori che le hanno inventati allora un piccolo sketch sul riguardante l'attacco del re collocato al centro vediamo questa partita giocata dal primo campione del mondo cioè ufficiale cioè steinitz nel 1867 contro winauer e qui il re del nero è collocato al centro e al momento non può neanche scappare perché c'è un alfiere qui che controlla questa diagonale dopo che dopo donna c8 winauer gioco donna c8 sperando magari di cambiare le donne ma naturalmente il bianco non ci pensa nemmeno e la posizione del debole del re al centro qui consente un bel sacrificio infatti qui il bianco si può permettere di sacrificare per smantellare la posizione dell'avversario si può permettere di sacrificare anzi deve sacrificare queste sono quelle circostanze in cui è importante giocare in maniera energica non attendere che l'avversario si difenda e renda la sua posizione più solida qui per esempio non dobbiamo attendere che il nero giochi donna e sei a rocco lungo perché poi magari lentamente va a stare anche bene invece steinitz immediatamente energicamente gioco donna per g6 e questa regina in effetti non può essere catturata perché dopo f per g6 il bianco dà scacco matto infatti f7 scacco re di 8 è unica e qui f8 fa donna la donna deve essere catturata torre per f8 e questo scacco matto quindi spesso come vedremo la posizione del re al centro consente dei sacrifici brillanti qui addirittura si sacrifica una regina un altro esempio di sacrificio nel caso in cui il re è collocato al centro qui è il re bianco stavolta essere collocato al centro qui c'è un cavallo inchiodato il bianco gioco torre di 5 questa è una partita giocata per corrispondenza nel 1928 quando non c'erano ancora i computer a disposizione e qui il nero può giocare può vincere immediatamente giocando quello che è un apparente sacrificio nel senso che è un sacrificio che non può essere accettato appena la sconfitta immediata e infatti approfittando della presenza del re avversario al centro del fatto che questi alferi sono collocati in una maniera iperaggressiva il nero qui giocò torre per d5 e il bianco abbandonò subito infatti la torre non può essere catturata non può essere catturata dal cavallo dato che il cavallo è inchiodato e non può essere neanche catturata dal pedone perché in caso di pedone per d5 il nero gioca semplicemente donna per e2 che è anche scacco matto quindi in situazioni dove il re avversario è collocato al centro dobbiamo calcolare anche varianti che normalmente non valuteremmo e sacrifici che normalmente non valuteremmo approfittando del fatto che il re avversario è collocato in posizione debole va bene poi a proposito invece di matti tematici vi dicevo che alla fine di ogni lezione analizzeremo alcuni esercizi dove sono anche illustrati dei matti tematici che prendono il nome dei giocatori che le hanno inventati voglio farvi vedere brevemente questo che è noto come matto di Max Lange matto del corrido di Max Lange e voglio farvi vedere brevemente anche l'apertura perché illustra bene quello che era lo spirito romantico in periodo romantico i giocatori giocavano in maniera molto aggressiva sacrificando spesso materiale qui in questo momento vediamo che infatti dopo che ha al nero ha giocato alfiere g4 ha due pezzi in presa quindi ora deve giocare in attacco infatti Max Lange senza timore gioco cavallo e 4 e qui entrambe le catture contengono delle insidie cioè veramente il cavallo non può essere catturato perché sennò si perde la regina dato che questo vedone è inchiodato e anche la cattura dell'alfiere sarebbe pericolosa perché interverebbe la regina in h4 donna h4 scacco sarebbe molto fastidiosa quindi correttamente qui Andersen giocò arrocco tra l'altro qui dopo arrocco c'è ancora la forchetta quindi il bianco sta minacciando di guadagnare il suo pezzo sta minacciando di guadagnare uno dei due pezzi neri ma qui tranquillamente Max Lange gioca d3 con l'idea di far intervenire in attacco anche questo alfiere che vedremo sarà determinante in questo momento infatti c'è una sola mossa buona per il bianco pensate che in questa posizione la mossa del bianco è unica altrimenti perde e qui non riuscì a trovarla però Andersen giocò f per g4 catturò l'alfiere pensando magari di essere adesso al sicuro dato che non c'è donna h4 scacco però invece dopo alfiere c5 re h1 Max Lange giocò quello che il suo sacrificio minacciando il matto del corridoio noto come matto di Max Lange che funziona in questo modo l'alfiere controlla la casa di fuga in g1 e la regina qui minaccia di dare scacco matto in h6 donna h6 e scacco matto qui il bianco non si perde d'animo e trova una risorsa difensiva che sembrerebbe dare dei problemi enormi al nero infatti adesso l'idea del bianco semplicemente è di minacciare la regina e poi eventualmente mettersi in h5 dove evita di di farsi dare matto però evidentemente Max Lange ha già previsto tutto infatti qui gioca lascia la donna in presa e gioca h5 e di nuovo minaccia il matto del corridoio però stavolta lo minaccia con la regina con la torre scusate infatti non si può catturare la regina se torre per g5 h per g4 e scacco matto e quindi qui non c'è altro da fare che tristemente per il bianco g per h5 ma a questo punto dopo donna per f5 la partita è già sarebbe già vinta per il semplice fatto che il nero ha recuperato materiale con gli interessi ma qui addirittura Max Lange insiste per dare scacco matto subito insiste sempre col solito tema cioè torre per h5 che sacrifica la torre g per h donna e4 che minaccia scacco matto di nuovo in h4 il matto di Max Lange donna f3 nella speranza di coprire sulla colonna h ma qui stavolta dopo donna h3 il matto viene dato sulla prima traversa donna e1 re h2 affere g1 e dopo questa sequenza è scacco matto quindi impareremo durante il corso anche a dare i nomi ad alcuni ad alcuni classici scacchi matti che sono stati inventati nel corso dei secoli questo è noto era noto come come matto di Max Lange appunto matto del corridoio di Max Lange tra l'altro a me è capitato anche di giocarlo in torneo ho vinto una partita contro un maestro internazionale proprio giocando un sacrificio tematico di questo tipo la cui idea principale era proprio lo scacco matto di Max Lange quindi vedere alcuni sacrifici è utile perché ci consente di cercare di replicarli in torneo e questo è uno degli esempi dove effettivamente aver visto un meccanismo di sacrificio averlo già visto in partite famose può aiutare altrimenti è difficile che ci venga in mente per esempio qui dopo B4 probabilmente il 90% dei giocatori giocherebbe cavallo A4 senza pensarci su tanto a lungo oppure ritirerebbe il cavallo non so in D1 e invece Ivanciuk conosceva sicuramente questo sacrificio tematico questo sacrificio che è tematico nella partita siciliana infatti ricorre spesso anche in alcune varianti teoriche e il sacrificio tematico è il seguente cavallo D5 ancora una volta questo sacrificio approfitta del fatto che il re avversario è collocato al centro al momento questo re è collocato al centro è ben difeso dai pedoni i pedoni F7 F6 E6 D6 ma questa mossa pone il nero davanti a un bivio o consente al bianco di giocare cavallo per E7 e proseguire il suo attacco oppure accetta il pezzo come fece Vasella Grav però dopo aver accettato il pezzo le cose si mettono abbastanza male perché la torre in E1 attacca direttamente l'alfiere in E7 al centro dopo che il cavallo va via il cavallo in D4 è pronto ad andare in F5 qui per esempio sarebbe impossibile arrocco perché su arrocco si perde immediatamente perché il cavallo F5 attacca due cose attacca l'alfiere in E7 ed è pronto ad appoggiare lo scacco matto della regina qui nella casa G7 e quindi qua non c'è difesa per esempio dopo torre 8 donna E2 e qui il matto imparabile la partita poi proseguì il re proseguì in questo modo il re nero fu costretto a rimanere al centro quindi dopo F5 e il fatto di rimanere al centro lo fece perdere alla lunga qui potete osservare che dopo torre 2 il nero è completamente paralizzato cioè non può più muoversi c'è un'inchiudatura micidiale sulla colonna E e tra l'altro questo callo in F5 può appoggiare l'ingresso della regina qua che può dare matto può minacciare matto in G7 quindi ripeto conoscere queste partite classiche questi sacrifici tematici ci può aiutare a a riconoscerli e quindi a farli propri per poterli utilizzare eventualmente in partite di torneo ok un altro il tema successivo nei capitoli successivi invece riguarda come smaltellare la difesa pedonale dell'avversario e questo tema innanzitutto è illustrato a partire da quello che è noto come sacrificio greco perché è dovuto a Gioacchino greco infatti la prima fonte storica ufficiale dove questo sacrificio appare è contenuta in una pubblicazione del trattato di Gioacchino greco dove Gioacchino greco mostra questa variante qui il bianco sacrifica un pezzo e poi dopo R per H7 interviene con il cavallo cavallo G5 scacco qui vi faccio vedere soltanto una variante possibile poi ci sono varie altre possibili difese che vengono analizzate e altre partite in cui questo sacrificio viene analizzato per capire quando è che funziona e quando no qui in questa posizione funziona benissimo perché dopo tonno H5 si minaccia matto in H7 e questo matto è imparabile quindi vuol dire che il nero doveva provare ad uscire fuori e qui non c'è più niente da fare perché se per esempio il nero prova ad eliminare il cavallo allora interviene la torre la torre che sta in H1 che appoggia la regina per dare matto in H8 e nel caso in cui il nero prova di dare una casa di fuga in F7 al re il bianco gliela chiude subito con G6 e quindi nuovamente si minaccia il matto in H8 e stavolta è davvero imparabile ok qui invece un altro matto tipico quindi oltre ai temi che riguardano le lezioni vere e proprie ci sono vi dicevo sono anche illustrati alcuni matti tipici che è bene conoscere perché comunque contengono alcuni meccanismi di attacco standard questo sacrificio è noto come sacrificio di morfi matto di morfi funziona in questo modo si sacrifica la regina G per F e dopo torre G1 per H8 unica alfiere per F6 scacco matto quindi questo meccanismo in questa versione è molto semplice cioè dopo il sacrificio di regina la regina minaccia matto in G7 quindi va catturata torre G1 per H8 alfiere per F6 perché si chiama così si chiama matto di morfi perché la prima volta che è apparso questo sacrificio è apparso in una partita di morfi dove di morfi contro Polsen e in questa partita di morfi contro Polsen dopo Don A6 che ha l'idea di cambiare le regine al bianco piacerebbe molto cambiare le regine e qui il nero naturalmente non cambia le regine e va bene questo è ovvio ma nemmeno si sogna di spostarla la regina senza minacce invece la sposta minacciando anzi la sposta catturando la fiere appunto il sacrificio di morfi come l'abbiamo visto già prima donna per F3 qui funziona in una maniera un po' più articolata rispetto all'esercizio molto semplice che abbiamo visto prima però insomma il meccanismo non è molto dissimile si deve comunque coordinare torre e alfiere qui torre G6 scacco Re H1 alfiere H3 e si minaccia alfiere G2 scacco Re G1 alfiere per F3 in matto qui ci sono alcune varianti e vi faccio vedere come è andata la partita il bianco Porsen ha giocato torre G1 per dare una casa di fuga a Re dopo alfiere G2 Re G1 alfiere per F3 Re F1 unica e qui dopo torre G2 non ci sarebbe più niente da fare perché infatti la torre minaccia di dare matto in poche mosse giocando torre per F2 per esempio se il bianco cerca di rientrare con la regina c'è subito matto torre per F2 unica Re G1 torre G2 e qui unica Re H1 in caso di Re F1 comunque torre e comunque il bianco può dare può dare matto quindi Re H1 torre G1 il nero può dare matto e quindi torre G1 è matto ugualmente va bene queste varianti poi le analizzeremo più nel dettaglio anche le altre possibilità difensive qui c'era qualche altra risorsa difensiva forse a questo punto però in effetti tutte portano alla sconfitta invece di giocare torre G1 c'era qualche altra mossa da analizzare ok poi il tema successivo invece che vi avevo preannunciato prima riguarda l'eliminazione di difensori l'eliminazione di difensori quindi quando dobbiamo sacrificare un pezzo o un materiale per eliminare un difensore del re avversario qui voglio illustrarvi direttamente tutta la partita brevemente perché l'apertura è abbastanza breve e qui facciamo vedere una partita di Lasker contro Peerz giocata nel 1935 quindi ancora un campione del mondo Manuel Lasker famoso campione del mondo dopo E4 C5 Kf3 Kc6 tutte mosse normali Kf4 Kf6 Kc3 D6 Alfiere 2 E6 Arrocco A6 queste mosse sono teoriche perfettamente giocabili dopo F4 qui però il nero si attarda un po' troppo a muovere più volte questo cavallo e questo lo porterà alla sconfitta in effetti perché Lasker gioca in una maniera molto energica cioè qui inizia ad attaccare giocando F5 e dopo cavallo C4 elimina questo cavallo e poi gioca F per E6 e qui dopo F per E6 anche F per E6 sarebbe stata abbastanza brutta forse un po' migliore ma comunque sarebbe dato in grande svantaggio come poi abbiamo analizzato come è stato analizzato nel videocorso e qui a proposito di eliminazione del difensore Lasker elimina il difensore più forte del re avversario e infatti qui non gioca mosse lente di sviluppo ma immediatamente prende l'iniziativa giocando torre per F6 G per F6 donna H5 qua in effetti si potrebbero analizzare varie possibilità sostanzialmente o re 7 o re D8 in partita fu giocata re D8 è interessante anche vedere perché non funziona re 7 re D8 non funziona per donna F7 e qua questa donna F7 sta minacciando naturalmente donna per F6 che è doppio a re di torre la partita proseguì alfiere D7 perché su alfiere 7 che difende questo pedone in F6 il bianco c'è una bella mossa cioè può intervenire col cavallo in attacco approfittando del fatto che il pedone in E6 è inchiodato e questa mossa è micidiale perché dicevo il pedone E6 è inchiodato perché c'è la regina in F7 che mangerebbe C4 e quindi siccome il pedone in E6 è inchiodato il cavallo non è catturabile quindi ora si minaccia matto donna per F7 matto e tra l'altro può anche intervenire l'alfiere in B6 a dare scacco come evidenzia la freccia quindi qui in sostanza si perde subito non c'è molto da fare se per esempio il nero provava a difendersi così allora l'alfiere B6 scacco e su Re D7 c'è semplicemente torre D1 e torre D1 già sta minacciando torre per D6 che è scacco matto e quindi qua è finita ok questa è un'altra partita che analizzeremo e illustra il tema dell'eliminazione dei difensori poi un altro tema invece fondamentale che vogliamo trattare nel corso riguarda il controgioco questo è l'ultimo tema che trattiamo nel videocorso quello del controgioco è un tema molto importante cioè quindi nel caso in cui siamo noi a subire un attacco come possiamo in certe circostanze riconoscere che c'è l'opportunità di effettuare un controgioco allora quello che voglio illustrare è il seguente concetto sotto un H5 il bianco sta attaccando concretamente il pedone in H7 e questa è una minaccia davvero fastidiosa e insidiosa e qui sono possibili un paio di mosse cioè il nero potrebbe giocare per esempio H6 oppure potrebbe giocare non ci sono molte alternative perché la minaccia da una pera H7 è fortissima quindi o si gioca H6 come probabilmente giocherebbero molti giocatori oppure si gioca G6 come in effetti fece Tal e G6 dà l'opportunità di passare in futuro al controattacco perché infatti dopo la mossa H6 non sarebbe una mossa ottimale e il problema non è perché non sarebbe una mossa ottimale non tanto per donna G6 donna G6 non è un problema molto grosso perché la donna in H7 non sta minacciando matto e anzi su cavallo E7 probabilmente poi la donna se va in H7 magari si distia anche che che la si perda tra l'altro anzi potrebbe giocare tranquillamente alfiere per B2 perché la donna non sta minacciando matto il problema è che però dopo alfiere E5 adesso la situazione è diversa perché ora l'alfiere in B2 non è più impresa quindi comunque donna G6 sarebbe un po' sgradevole donna G6 cavallo H5 e quindi questo va catturato e se il nero fa il materialista giocando cavallo F4 allora il bianco sacrifica dopodiché gioca cavallo E4 e qui l'attacco davvero diventa insostenibile perché la minaccia è cavallo F6 per esempio su alfiere B7 cavallo F6 per F8 donna G6 e qui la partita è perduta e su G per F6 ci sarebbe semplicemente donna per H6 e qui e qui non c'è più niente diciamo sta nettamente in vantaggio il bianco qua è netto vantaggio del bianco invece Tal che ha una grande sensibilità nelle possibilità di attacco di entrambi i colori non si difende passivamente con H6 bensì G6 che alla lunga passa al controattacco dove? sulla colonna G perché dopo alfiere per G6 donna E7 per difendere il punto H7 ed ora il nero è pronto a passare addirittura il controattacco sulla colonna G perché la sua posizione adesso è diventata solida la regina difende solidamente il punto H7 e il re nero è pronto andare in H8 la partita proseguì alfiere per F6 cavallo per F6 donna F3 attaccando la torre torre B8 l'alfiere deve andare via alfiere B7 donna E2 re H8 per far spazio alla torre che va in G8 e dopo un paio di mosse la torre effettivamente arrivò in G8 e qui il materiale è pari e il nero è in netto vantaggio perché il cavallo in G3 è inchiodato e questa alfiere su questa diagonale è diventato fortissimo sono ben coordinati l'alfiere sulla diagonale e la torre e quindi a questo punto è il nero ad essere passato da una fase in cui subiva un attacco in questa posizione a una fase in cui sacrificando un pedone passa poi al controattacco sulla colonna G e qui c'è bisogno di sensibilità e capacità di analisi precise per capire che è il caso di difendersi in questo modo sacrificando un pedone perché probabilmente molti giocatori giocherebbero giocherebbero H6 con l'idea che poi di potersi magari difendere in questo modo ma in effetti difendersi in questo modo è un po' troppo passivo e pericoloso e infatti dopo torre per torre per cavallo 4 si va inevitabilmente sotto quindi è importante riconoscere quando è che è il caso di passare al controattacco cedendo materiale qui in questa situazione il nero ha preso materiale ma quando si subisce un attacco a volte è meglio cedere materiale in cambio però magari di una posizione più solida come questo è il caso cioè dopo G6 al filo per G6 donna E7 ha rafforzato la posizione del nero perché il nero adesso può difendere il punto H7 con la donna lo difende con la donna e poi si può difendere anche con Re H8 portando una torre sulla G quindi ha reso la sua posizione molto più solida di prima sacrificando questo pedone e anzi addirittura poi a posteriori dopo sulla colonna G passa al contrattacco per concludere voglio farvi vedere un'altra metodologia di scacco matto famoso nella partita che vediamo si illustra anche il concetto di eliminazione dei difensori qui in questa posizione l'alfiero in D4 è attaccato il nero gioca alfile B6 e qui Blackburn che sta attaccando ferocemente con tutti i pezzi l'arrocco del nero gioca in stile molto aggressivo giocando cavallo F6 e cavallo F6 è un pezzo che va catturato diciamo non c'è molto da fare ma dopo G per F6 E per F6 cavallo per F6 donna per H6 e adesso il cavallo in F6 è attaccato il nero provò a contraattaccare con un alfiere per F2 ma Blackburn non si fa distrarre naturalmente gioca semplicemente re H1 cavallo B5 per difendere il cavallo in F6 e ora eliminazione di un difensore difensore eliminato l'alfiere in C2 è pronto a prepararsi a giocare eventualmente alfiere H7 dopo alfiere B7 alfiere 5 il nero prova a difendere il cavallo con la torre ma qui Blackburn dà lo scaccomatto famoso che porta il suo nome porta il nome di Blackburn questo è lo scaccomatto di Blackburn che viene dato utilizzando due alfieri questo alfiere che domina questa diagonale e quest'altra alfiere invece che domina quest'altra può darsi che questo meccanismo di scaccomatto già lo conoscete magari l'avete già visto e comunque il sacrificio è brillante donna H7 da scaccomatto ricapita lo scaccomatto perché dopo cavallo per H7 alfiere per H7 è scaccomatto con con i due alfieri va bene io mi auguro che per chi si iscrive a questo corso ci potrà chi si iscrive a questo corso mi auguro che chi si iscrive a questo corso si divertirà quanto mi sono divertito io nel vedere tutte queste partite famose perché infatti credo che sia davvero divertente vedere all'opera tutte queste combinazioni davvero a volte sorprendenti e belle a vedersi esteticamente quindi vi consiglio di seguire questo corso perché vi farà conoscere alcune partite famose se già non le conoscete e poi vi farà familiarizzare con alcuni meccanismi di attacco che sono tipici e che si sono questi meccanismi di attacco si sono sviluppati nel corso dei secoli sono diventati poi famosi e ripetuti da vari giocatori nel corso dei secoli e giocatori che evidentemente avevano acquisito e fatto proprio nel proprio bagliaio culturale queste metodologie di attacco va bene e niente per chi ha intenzione di seguire il corso è soltanto un arrivederci in ogni caso auguro a tutti una giornata